Quando è pronto? Benvenuti a questa serata con il Bambi Sera! 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. , , , , , , che è un brano, , 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 ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 Tu prima dicevi una cosa? Io? Grazie a tutti. 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 facciamo 10 minuti.